Sì, qui c'è un sacco di scritte, queste leve. Facciamo una cosa, siamo all'interno di una macchina molto particolare. Andavo all'università a Bologna. No, no, no. Fino a Bologna. Manca, cos'è lì? Ah, sì, ma questa è colpa. No, no, no. No, no, no. Se pensi che quel città ce la raggiungerebbe il risultato... Senti, non senti bene più da qua. Ah, rischia! Senti, ma io voglio giocare qua. Poi ne passa un altro dopo. Dopo lui è passato, magari ne ha fatto un altro...